Grazie a tutti. La prima cosa che va segnalata è l'importanza di questa Sala, di quanto questa Sala esprime. Di questo credo il Governo debba ringraziare in modo particolare Giuliano Poletti. Quindi questa Sala dice che il Governo e l'Alleanza contro la povertà, cioè un arcipelago molto vasto di forze sociali, sindacali, di organizzazioni dell'associazionismo, si sono messi insieme, hanno trovato un punto d'intesa rilevante, ma soprattutto hanno lavorato insieme e si ripromettono di continuare a lavorare insieme. Ed è tra i messaggi che diamo oggi, secondo me è uno dei messaggi più interessanti e da valorizzare. Noi sappiamo che la crisi che abbiamo attraversato una decina di anni fa, la crisi più grave dal dopoguerra, ci ha lasciato un incremento dei numeri della povertà molto rilevante. Un milione e mezzo di famiglie povere. E questo per chi governa, per tutti noi, deve essere, diceva prima Giuliano, innanzitutto riconoscere il problema. Deve essere un assillo costante. Penso che tra i meriti dell'alleanza contro la povertà ci sia il merito di aver alimentato nella società, nell'opinione pubblica, un atteggiamento esigente nei confronti delle istituzioni su questo problema. E questo atteggiamento esigenze della società, dell'opinione pubblica, ha contribuito a rendere le istituzioni più presenti, più attive. Naturalmente quello di oggi è un primo risultato, però penso che sia utile rivendicarlo a testa alta, perché in fondo è la prima volta che l'Italia si dota di uno strumento generale, universale, che vale su tutto il territorio nazionale, che è il reddito di inclusione. Il Parlamento ha approvato la legge delega, i decreti legislativi saranno approvati entro la fine del mese. Credo che tutti siamo consapevoli della necessità di passi ulteriori nei prossimi anni, passi ulteriori che devono allargare la platea dei destinatari di questa misura, attraverso l'estensione del Fondo nazionale per la povertà, e devono lavorare per aumentare anche i benefici di cui i destinatari sono titolari. Naturalmente tenendo conto di quegli aspetti di complessità che il Ministro Poletti ricordava prima, e cioè non parliamo solo di trasferimenti di numeri, ma parliamo di un'operazione complessa e che per questo ancora di più ha bisogno dell'interazione tra le istituzioni e la vostra alleanza, di un'operazione complessa di inclusione. Noi siamo passati, credo che dobbiamo rivendicarlo con orgoglio, è merito del Governo in questi anni, del Governo guidato dal Presidente Renzi, da fondi iniziali che mi pare fossero attorno ai 200 milioni, quelli sperimentali per il SIA, oggi è un fondo che cuba attorno ai 2 miliardi. E soprattutto ha una misura, per così dire, strutturale, che nei prossimi anni può crescere, che si rivolge ai nuclei familiari, e che interessa circa 2 milioni di persone. Tra queste 2 milioni di persone c'è una quota molto rilevante di 700-800 mila minori, che, come sapete, nel meccanismo del reddito di inclusione sono stati privilegiati. Perché sono stati privilegiati? È ovvio, ma penso che lo dobbiamo ribadire in questa occasione, perché intervenire sul disagio, intervenire sulle privazioni, riguarda tutti coloro che soffrono disagio e privazioni, a prescindere dalle condizioni, dall'età. Però non c'è dubbio che intervenire in modo particolare sulla povertà e sui disagi che colpiscono i minori ha un significato, dal nostro punto di vista, sociale straordinario. Perché prendersi cura della povertà dei minori significa attaccare alla radice il problema della diseguaglianza, che è un problema tutt'altro che abbandonato, si potrebbe dire un problema emergente, delle nostre società moderne, contemporanee, votate all'innovazione, che devono fare i conti sempre di più con la questione della diseguaglianza. E se non intervieni su questa questione, partendo dai bambini, dai ragazzi, dai minori, è molto difficile poi lavorare per la riduzione delle diseguaglianze sul piano culturale. Diceva il portavoce dell'Alleanza, c'è un pezzo di buona politica in questa operazione, anch'io ringrazio il Parlamento e i parlamentari più impegnati in tutto questo lavoro. C'è un pezzo, direi, dei nostri valori, perché al centro di questa operazione c'è il valore della dignità. Noi non stiamo facendo un'operazione soltanto di trasferimento economico, come è stato giustamente ricordato, stiamo cercando di rendere alcune centinaia di migliaia di persone protagonisti di un percorso di inclusione, di recupero di ruolo sociale. E quindi, in fondo, stiamo lavorando sul tema fondamentale della dignità. E stiamo lavorando su una delle libertà alle quali dobbiamo essere affezionati, che è la libertà dal bisogno. Lo è sempre stata in una certa cultura che le vostre associazioni, le vostre organizzazioni rappresentano, ma dobbiamo sottolinearne la contemporaneità, la modernità, che proprio lo sviluppo, l'innovazione tecnologica straordinaria delle nostre società, che certamente è una grandissima occasione, impongono alla nostra attenzione. Infine, mi fa molto piacere che questa occasione della firma di questo memorandum e dell'incontro tra il Governo e l'alleanza della povertà avvenga in una giornata come questa, non solo perché siamo vicini anche a delle festività importanti e anche a una pausa, non per tutti, ma per qualcuno nel lavoro, ma mi fa piacere anche per il Governo, perché siamo all'indomani dall'approvazione del decreto di economia e finanza, del documento di economia e finanza, del decreto che lo ha accompagnato, con una correzione dei conti, un intervento rilevante sulla ricostruzione delle zone del terremoto, un impegno sul rilancio degli investimenti e delle infrastrutture. E siamo anche all'indomani, proprio l'indomani mattina, di una nottata che ci ha portato a raggiungere un verbale di preintesa tra l'azienda, l'Italia, le forze sindacali. Io voglio ringraziare per questo impegno, per questo sforzo, che certamente non è stato facile arrivare a un punto di incontro. Mi auguro che questo punto d'incontro sia confermato dai lavoratori e voglio rivendicare l'impegno del Governo, che in questi mesi è stato, vi assicuro, incessante. L'Italia è un'azienda privata, ma il Governo non ha risparmiato gli sforzi per cercare di ottenere un piano industriale che potesse essere condiviso e che, mi auguro, venga confermato anche nel referendum. Insomma, abbiamo alle spalle quattro mesi, parlo in questo caso del Governo da me presieduto, di decisioni importanti, dalle banche all'immigrazione, dalla sicurezza all'attuazione di alcune riforme fondamentali, come la scuola, come la pubblica amministrazione, al rilancio degli investimenti. Sappiamo che non c'è da stare rilassati, perché io ho sempre considerato i numeri della crescita, che peraltro sono assolutamente graduali e andrebbero assolutamente rafforzati e incoraggiati, comunque i numeri della crescita di per sé non sono sufficienti a migliorare la realtà delle nostre condizioni sociali. Quindi abbiamo sempre bisogno di avere numeri migliori e su questo non sarà facile l'impegno del Governo nei prossimi mesi e abbiamo bisogno però di accompagnare anche i numeri con politiche sociali, politiche attive per il lavoro, politiche di inclusione, che trasformino questi numeri migliori in un effettivo miglioramento delle condizioni del Paese. L'unica cosa che posso dire con certezza è che gli italiani possono contare su un impegno da parte nostra massimo. Si potrebbe dire, con una banalità terrificante, che il Governo governa. È una cosa banale, ma mi auguro che contribuisca anche a quella sensazione di stabilità e di sicurezza di cui i nostri concittadini hanno veramente bisogno. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.